Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, ben ritrovati all'appuntamento con i nostri speciali del lunedì, questa sera in versione la stanza di Feltri perché tra un attimo ci collegheremo con la direzione del Quotidiano Libero dove il direttore Vittorio Feltri sarà con noi per parlare dei temi di attualità che riguardano la politica italiana. Questa sera c'è con me ancora una volta Claudio Siciliotti, perché dico ancora una volta? Perché ormai è ospite fisso visto che si parla sempre di tasse, di economia, francamente vorremmo vederla un po' meno qui da noi, parlare di altro, ma visto che si parla di tasse lei è la persona sicuramente più indicata. Buonasera Siciliotti. Grazie, spero anch'io di essere meno spesso a vostro ospite. Ho comunque per parlare d'altro qui con noi, ma non di tasse e di stangate che forse stanno per arrivare. Andiamo dal direttore Feltri a Milano, buonasera direttore. Buonasera a tutti voi. Allora, prima di parlare di tasse e di soldi che come dicevamo due settimane fa il governo da una parte ce le metterà, ma dall'altra probabilmente ce le sfiderà, i soldi ovviamente, parliamo di quello che abbiamo letto in questi giorni, di una situazione politica più generale, e cioè è stato ipotizzato un accordo fra il PD e il Movimento 5 Stelle non strettamente legato a questa esperienza di governo, ma più duraturo. Lei che cosa ne pensa? All'interno della componente 5 Stelle c'è chi è favorevole come Grillo, chi invece no come Di Maio, mentre dal punto di vista del Partito Democratico Zingaretti spingerebbe per questa soluzione. Sì, però diciamo che queste sono le solite chiacchiere che fanno i partiti quando, dopo aver litigato per una vita, come è accaduto tra 5 Stelle e PD, pensano di doversi alleare e andare avanti a governare. Quindi io non credo che sia un accordo che si basi su una comunanza di idee e di ideali, ma soltanto per poter tirare avanti a governare questo Paese, evitando le elezioni che sia per il Movimento 5 Stelle sia per il Partito Democratico probabilmente costituivano una minaccia, cioè la minaccia di perdere voti. Dopodiché adesso certo cercheranno di tirare avanti il più possibile e magari ce la faranno per qualche mese, forse anche un anno, ma non mi sembra che ci sia un'identità di vedute che farà queste due forze e pertanto non penso che la coalizione possa durare a lungo, almeno me lo auguro, perché io vorrei che morisse domani mattina questo governo. Il lago della bilancia ancora una volta potrebbe essere Matteo Renzi con i suoi parlamentari, quelli che sono spostati dal Partito Democratico alla sua nuova formazione, c'è anche una rappresentanza nel governo di ministri che fanno capo a questo nuovo partito di Matteo Renzi, quindi potrebbe essere lui lago della bilancia. Mi sembra che sia abbastanza in contrasto su alcuni dei punti, soprattutto per quanto riguarda la manovra con l'attuale governo, con quello che sta facendo Conte e il governo. Sono d'accordo con la sua analisi, io credo che comunque Renzi abbia dimostrato di essere il più furbo della compagnia e è riuscito in un colpo solo a far secco Salvini, Di Maio, lo stesso Mattarella e altri e questo dimostra che il ragazzo fiorentino è piuttosto sveglio e non è morto come molti avevano pronosticato, anzi è lui che ha in mano il torrone e lo mena lui, quindi la vita di questo governo dipenderà anche dagli atteggiamenti di Renzi che comunque si è rivelato un uomo di grande talento tattico e anche strategico. Non è che la cosa mi piace molto, però verifico questa realtà e quindi non posso che commentarla con accenti favorevoli nei confronti di questo uomo che l'ha dato per spacciato e invece è risuscitato all'improvviso riuscendo a combinare questo grande pasticcio che è destinato a creare solo un casino infernale. Veniamo a lei Siciliotti, allora sono ore febbrili per quanto riguarda la manovra finanziaria, pochi giorni poi dovrà essere portata in Parlamento, dovrà essere presentata all'Europa, si sta trattando all'interno del governo per trovare questi 2-3 miliardi, chi dice 2 chi dice 3, per arrivare alla cifra di 29-30, alcuni accusano non si sa dove andranno a prendere i soldi, quali sono le ultimissime? Il cuneo fiscale sembra essere al centro di tutta questa manovra. Quali sono le ultimissime? È francamente difficile dirlo e probabilmente sono le penultimissime perché penso che arriveremo in fondo veramente gli ultimi giorni. Mai come questa volta, devo dire, ci abbiamo di fronte due aspetti. L'uno che vengono, come dire, date in pasto all'opinione pubblica una serie smisurata di idee. Si è parlato di rimodulazione dell'aliquote IVA, si è parlato appunto di cuneo fiscale, si è parlato di bonus famiglia, ticket sanitari, tassa sui telefonini, la web tax che non manca mai ma non si fa mai, si è parlato di compensazioni, restrizioni sulle compensazioni di importanza, si è parlato di tutto. Anche di un esprimento sulle proprietà, con l'inno. Sì, assolutamente, quindi si ha un po' la sensazione, mi permetto di dirlo, che queste notizie si hanno buttate in pasto all'opinione pubblica per vedere come questa reagisce e per poi poter dire no, no, questa cosa assolutamente no, ma quest'altra sì, se dall'opinione pubblica si riceve un riscontro più favorevole o meno negativo. Però resta il fatto che siccome i numeri sono sovrani, qui si parla di una manovra da 29 miliardi, 23 sono di IVA per impedire l'aumento dell'IVA, altri 3 o 4 sono le cosiddette spese indifferibili e per spese indifferibili sono sostanzialmente le spese militari, quelle che non si può fare a meno di spendere, 23 più 3 fra 26 in una manovra da 29 si è già speso tutto. Quindi ci sono margini veramente risicatissimi e minimi per fare qualcosa. Quindi non c'è in tutto questo la possibilità di una progettualità. E poi, permettetemi di dire, trovo che ci sia sempre un utilizzo a sproposito delle parole. Quando si dice che questa manovra ha una copertura di circa 14-15 miliardi data dalla flessibilità, flessibilità, la flessibilità è nulla, non è la flessibilità. Eh, cosa significa? Significa che Bruxelles ci consente di andare in deficit e quindi vuol dire fare quello che in un bilancio di un'azienda... Quindi la flessibilità dell'Europa nei nostri confronti? Sì, ma il deficit significa debito sulle spalle delle generazioni future. Cioè, quando si dice sterilizzare l'IVA, mi sentirei di dire sterilizzare un corno. Resta rimandata alle generazioni successive. Su questo andrebbe fatta una riflessione. E allora, io andrei a fare questa riflessione con il direttore Felti, naturalmente. A Milano questa IVA, che è un po' il macigno, che blocca una qualsiasi ipotesi di manovra basata sullo sviluppo, sui tagli, senza doverci preoccupare di evitare l'aumento dell'IVA, però parlano di rimodulazione. Ma, insomma, alla fine qualcosa forse andranno a fare, metteranno mano lì e sempre noi dovremo pagare, perché l'IVA è l'imposta sul volo raggiunto, grava sugli acquisti e sui servizi che noi acquistiamo. Certo. Sì, secondo me ha straragione Siciliotti, dice delle cose sensate che nessuno può non condividere. Io penso che tutto sommato forse era meglio aumentare l'IVA che inanellare una serie di proposte idiote come quelle che sono state fatte, addirittura continuano ancora oggi a rompere le balle con le merendine, fanno i compagni delle merendine che poi non possono risolvere un bel niente. Allora, di fronte a queste iniziative così ridicole, non si può che essere in disaccordo e anche un po' insultare questo governo che non ha la minima idea di quello che si debba fare. Il vero problema poi è sempre il solito, che quando il debito pubblico è molto alto e non si può più sforare col deficit, col debito, sarebbe assolutamente conveniente ridurre le spese, le spese inutili, le spese non produttive e ce ne sono tantissime. Noi da circa 30 anni sentiamo dire che bisogna effettuare la spending review, ma mai nessuno è stato capace neanche di iniziare una simile operazione, per cui siamo ancora qui oggi come 10, come 20 anni fa a imprecare contro il debito pubblico che nessuno però è in grado di affrontare con delle misure intelligenti e naturalmente praticabili. Si continua a voler fare delle manovre in deficit quando queste ci portano sempre più indietro e non ci portano un centimetro avanti. Allora, se si tratta di aumentare l'IVA, senza ipocrisia si aumenta, anche se la cosa può essere molto dannosa, però poi è inutile, perché qui adesso manca solo che vogliano mettere un'imposta sull'uso degli occhiali, sull'uso delle stringhe delle scarpe, sull'uso delle mutande e poi abbiamo fatto il pieno. A me sembra tutto ridicolo, io ho un grande disprezzo per questo governo come l'ho avuto per quelli precedenti, almeno gli ultimi 10-15 che non sono stati in grado di comportarsi in modo corretto, come invece si comportano le famiglie italiane che non spendono una lira di più di quello che incassano, anzi riescono anche a risparmiare diventando i risparmiatori più importanti d'Europa come risulta dei depositi bancari. Quindi è meglio la gente del governo. Togliamo subito gli occhiali Sicilotti, perché andiamo a uno spunto ai nostri governanti per metterci la tassa sull'uso degli occhiali. Per quanto riguarda l'IVA, rimaniamo un attimo in questo ambito, cosa significa rimodulare le aliquote l'IVA e cosa significa invece aumentarle? È facile capire cosa significa aumentare, ma questo rimodulare è un sinonimo di aumentare oppure significa altro? Secondo me assolutamente sì, cioè perché rimodulare? Rimodulare per alzarne alcune, per abbassarne in altre con un saldo finale che sia di maggiori entrate. Io non credo che nessuno venga in mente. E quindi aumento dell'IVA? È chiaro, aumento dell'IVA ci deve essere per forza delle maggiori entrate, altrimenti non avrebbe senso farlo. Io credo che il direttore Fettri abbia molto ragione, il tema della spending review è un tema che ci trasciniamo da anni. Io vorrei che fosse chiaro a tutti che non ci sarà mai un significativo risparmio di imposte, riduzione della tassazione, se non ci sarà prima un significativo taglio della spesa pubblica. Le due cose vanno di pari passo. Taglio la spesa pubblica, individuo gli sprechi, l'abbiamo detto tante volte, l'invalido che fa la maratona, il cieco che tira con l'arco. Cioè riduciamo queste cose perché si possono ridurre, a fronte di questo c'è la possibilità, abbiamo lo spazio per. E un'altra cosa, perché una delle altre coperture mai fatto, una cosa del genere, è di circa 7 miliardi che derivano dal recupero dell'evasione fiscale. Mai siamo riusciti a recuperare 7 miliardi, quindi non si capisce come ci potranno riuscire questa volta. E mi piacerebbe tirar fuori una vecchia proposta che ho sentito fare, credo, da tutti i politici e attuare mai. Tutto il recuperato dell'evasione fiscale andrà a ridurre le tasse di chi le paga. In un apposito fondo. L'ho sentita dire da destra a sinistra a tutti e mai nessuno l'ha fatto. Questo sarebbe un provvedimento di civiltà che avvicina i cittadini e i loro governanti e fa capire loro che la battaglia contro l'evasione è una battaglia comune che conviene a tutti. Ma non si fa. Però va fatta. Perché questi soldi servono a tappare altri buchi, non a dare ristoro ai contribuenti onesti. Un'ultima cosa. Diceva il direttore da Milano sarebbe meglio aumentare l'IVA, farla finita lì, aumentarla ed essere più chiari e più seri. Ma se il governo dovesse aumentare, se uno dei governi da ora in avanti, visto che in precedenza nessuno lo ha fatto, questo recupero della somma che serve a cancellare questa clausola d'IVA, se invece un governo dovesse un giorno dire ok aumentiamo l'IVA, questo cosa significherebbe? Che quel fardello poi verrebbe automaticamente eliminato oppure no? Cioè chiedere un sacrificio agli italiani e dire vi aumentiamo l'IVA però dalla prossima finanziaria non abbiamo più questa rottura di scatole tra i piedi, potrebbe avere un senso oppure no? Ricordo che sono 23 quest'anno e altrettanti, forse un attimo di più, mi pare 28 l'anno prossimo per eliminare tutto il problema. non è mica finita qui, perché sono tutti i soldi che noi abbiamo già speso e la genesi delle clausole IVA è siccome taglierò la spesa pubblica e l'Europa dice ma dove la taglierai? Beh non lo so, la taglierò, taglierò gli sprechi. Va bene, ti concedo di fare questa manovra a condizione che se non tagli aumenti l'IVA. Quindi questo è un fardello, l'ho detto una volta, è come se l'Atalanta del direttore Feltri partisse con 10 al campionato, non l'Udinese, l'Atalanta del direttore Feltri, partisse con 10 punti di penalizzazione. È chiaro che non può competere come gli altri. Ogni anno noi dobbiamo recuperare i 10 punti. L'Udinese no, eh? No, l'Udinese no, l'Udinese facciamola partire sempre da 0 punti prima giornata e facciamola arrivare a 60, se è possibile, alla fine del campionato. Magari insieme all'Atalanta, che peraltro fa molto bene al calcio italiano, e che squadre come Udinese Atalanta riescano a combattere, sgomitare con le grandi. Ma a parte questa parentesi calcistica, direttore, dunque forse si potrebbe programmare un sacrificio progressivo, ma essere chiari con gli italiani. Questo fardello di questa clausola IVA dobbiamo prima o poi provare a togliercelo dalle scatole, perché altrimenti ad ogni finanziaria partiamo, come dice Siciliotti, con un fardello sulle spalle da recuperare, è evidente che non si riesce a fare e quindi bisogna in qualche modo risolverlo. Certo, ma voglio dire, anche nelle nostre famiglie, ciascuno di noi, come penso farà il professor Siciliotti, come impostiamo la nostra economia? Io non so, guadagno 5 mila euro l'anno? Eh, chiedo scusa, 5 mila euro al mese, non ne posso spendere 6, altrimenti dopo un anno ho 12 mila euro di deficit, di debito, no? E se passano 10 anni questo debito sale a 120 mila euro, il che significa far fallire la mia famiglia, devo poi vendere i tappeti, i quadri, qualcuno, altrimenti non ce la faccio più andare avanti. Ecco, questa metafora un po' volgare è applicabilissima al nostro governo, però il nostro governo in realtà non ha mai voluto fare una lotta all'evasione, perché per prendere gli evasori non è difficile come si dice. Faccio un esempio. Se io vado al Pra, cioè dove si registra l'acquisto delle automobili di lusso e non di lusso, e vedo che molta gente ha acquistato delle Audi da 50-60 mila euro o delle Mercedes di pari valore, io devo fare solo un'operazione, andare a vedere se questi signori che hanno fatto tali acquisti onerosi hanno un reddito adeguato alla spesa che hanno sostenuto. Se non hanno un reddito adeguato devo chiedere dove questi signori sono andati a prendere i quattrini. Lo stesso vale per gli appartamenti, perché a Milano, per esempio, si vendono appartamenti minimo a 350 mila euro, 500 mila euro, si arriva al milione e anche ai 2 milioni. Chi le acquista deve dimostrare di avere denunciato un reddito adeguato all'investimento che ha sostenuto. Se non è in grado di dimostrare che quei quattrini li ha guadagnati onestamente è chiaro che va perseguito, va indagato. Invece questo non avviene mai, non lo fa. Anzi, qui ogni giorno arrestano uno dell'Agenzia delle Estrate, non so se avete letto sui giornali. Quindi vuole dire che c'è addirittura una complicità tra evasori e agenti delle entrate. a me sembra tutto questo assurdo e il fatto che nessuno intervenga per interrompere questo meccanismo nefasto, invece siamo qua, a bocca aperta, a aumentare l'IVA. altrimenti noi avremmo la possibilità, non dico di sistemare il debito pubblico, ma quantomeno di ridurlo e di portarlo entro dimensioni accettabili. La logica dello spesometro, no Siciliotti? Che grava però in particolare sulle aziende con gli studi di settore o sbaglio? Mentre sul privato che evade è un po' più complicato andare a... ci sono tutta una serie di meccanismi poi che dicono dovete venire a farvi i fatti miei e... Beh, adesso ci sono tantissimi meccanismi, c'è un'anagrafe tributaria altamente efficiente ed informatizzata, l'amministrazione finanziaria può andare a leggere i nostri conti correnti, ci sono i famosi ISA che hanno sostituito gli studi di settore, indicatori sintetici di affidabilità secondo i quali addirittura viene fatta una graduatoria dei contribuenti... Chiamiamo diversamente ma sono quelli... Sì, più o meno con una logica lievemente diversa ma è la stessa cosa gli strumenti sono davvero tanti e forse ci si dovrebbe domandare perché a fronte di un'evasione stimata sui 108-109 miliardi l'anno poi alla fin fine ne recuperiamo 15-16 al netto delle misure straordinarie quindi ne recuperiamo meno di un quinto è così? Che cosa manca? Io credo che una seria lotta contro l'evasione andrebbe fatta senza avere il mito che quei 100 milioni 100 miliardi scusatemi siano effettivamente aggredibili tutti perché questo non è in nessun paese al mondo e quindi tantomeno in Italia certo che potremmo perdere il primato di essere i secondi al mondo come siamo secondo le statistiche dopo la Grecia e già nominare la Grecia questo dà un'idea in che compaglia ci troviamo qual è la situazione per quanto riguarda il cuneo fiscale il MoVimento 5 Stelle chiederebbe di estendere una parte di questo beneficio anche alle imprese e adesso vorrei farle una domanda che forse non è pertinente me lo dirà lei ma le aziende nei confronti dei dipendenti per quanto riguarda l'IRPEF sono sostituti di imposta giusto? Cioè prendono i soldi dal dipendente e li girano allo Stato quindi abbassare il cuneo fiscale dare ai dipendenti più soldi in busta paga significa anche per le aziende anticipare dal punto di vista della più al cuneo fiscale che sostanzialmente può diventare questo un problema per alcune aziende? Può diventare allora chiaramente questo cuneo fiscale esiste in tutto il mondo mai così elevato come in Italia siamo credo il secondo o terzo paese al mondo per l'incidenza del cuneo fiscale in sintesi come dire paghi due prendi uno cioè il dipendente costa l'azienda due e sostanzialmente prende uno cuneo fiscale 48-49% quindi siamo alla metà diciamo 50% questo è fatto di tre componenti la tassazione a carico del dipendente che viene come dire prelevata dal datore di lavoro e versata dal datore di lavoro e poi dalla componente dei contributi finanziali una parte a carico dello stesso lavoratore una parte a carico dell'azienda quindi qui si può lavorare in tante dimensioni per ridurlo e uso una parola di moda per rimodularlo perché no per stabilire che magari le percentuali si abbassano i contributi e si lascia invariata per esempio l'IRPEF o viceversa quindi dire abbassare il cuneo fiscale bisogna vedere uno abbassare beneficiando chi perché se qui si tagliano i contributi non credo che i dipendenti siano poi tanto contenti se si taglia la tassazione evidentemente sì ma se si rimodula ripeto uso un'espressione ormai diventata quindi alterando e modificando i pesi c'è uno che ci guadagna e uno che ci perde bisognerebbe che fosse chiaro in che direzione il governo vuole andare non basta dire taglio o rivedo i pesi a favore di chi e quindi forse questo sarebbe uno strumento da considerare con maggior attenzione Direttore sul fronte della lotta all'evasione o comunque di una gestione migliore di quelle che sono le entrate dello Stato non sarebbe opportuno responsabilizzare le regioni vengo anche ad un'altra considerazione sulle autonomie e cioè le regioni che in un territorio più piccolo rispetto ad uno Stato intero forse hanno la possibilità conoscendo il territorio conoscendo le aziende conoscendo gli imprenditori i cittadini di poter esercitare se autorizzate se messe nelle condizioni di farlo un controllo sulla spesa ed anche sulle entrate che può essere poi virtuoso può generare un circolo virtuoso per tutto il paese si chiede anche questo con l'autonomia che hanno chiesto alcune regioni io personalmente sono d'accordissimo con l'autonomia anche perché il centralismo compreso quello fiscale produce dei disastri in quanto è molto difficile andare a riscuotere le tasse in Calabria se tu non conosci la Calabria ed è molto difficile riscuotere nel Veneto se non sei nel Veneto e non conosci gli imprenditori veneti non conosci la gente veneta eccetera un tempo quando c'era la famosa imposta di famiglia io me lo ricordo molti anni fa era difficile che il comune nel quale tu risiedevi non sapesse quale vita facessi e quali tasse avresti dovuto pagare quindi in linea di massima le cose procedevano meglio 40 anni fa che non adesso 40 anni fa non esisteva l'IRPEF non esisteva niente esisteva la tassa di famiglia e lì il comune faceva delle indagini e te la faceva pagare in una misura di solito proporzionale a quello che tu guadagnavi e le cose andavano non meravigliosamente ma sicuramente meglio tant'è che il debito pubblico allora era infinitamente più basso era nei limiti fisiologici di uno stato serio oggi non lo è più non lo è più nonostante che la tassazione sia aumentata a dismisura per ogni cittadino e questo dovrebbe far riflettere invece noi odiamo odiamo l'autonomia per la Lombardia e il Veneto e il Friuli mentre continuiamo a concederla alla Sicilia per esempio che non mi sembra un campione di amministrazione perfetta no? allora che cosa dobbiamo dire ma per quale motivo la Sicilia è autonoma la Sardegna autonoma ci sono altre regioni anche al nord autonome mentre invece la Lombardia il Veneto e l'Emilia non possono ottenere questa possibilità di amministrarsi in modo più corretto fra l'altro queste regioni hanno dimostrato di gran lunga di essere in grado di dare ai propri cittadini una serie di servizi molto più efficienti rispetto a quelli che purtroppo vengono offerti alla gente del sud allora di fronte a questa evidenza non c'è però la capacità di reagire non c'è la capacità di concedere a chi sa fare la possibilità di fare mentre si continua a concedere a chi non sa fare di sprecare questo è assurdo è folle e naturalmente io non vorrei usare una parola brutta ma comunque ci fa incazzare tutti quanti incazzare sicuramente possiamo possiamo sottolinearlo perché siamo stufi a tutte queste chiacchiere di continui giochini di parole vorremmo che ci fosse anche un po' di chiarezza torniamo di nuovo a quello che potrebbe essere fatto e che il governo sta studiando qualcuno ha detto patrimoniale qualcuno ha detto inasprimento della tassa sulla casa limo accorpata ad altre imposte tasse tariffe chiamiamole come vogliamo qualche settimana fa il direttore ha ricordato proprio da Milano che circa l'80% degli italiani ha la casa di proprietà quindi mi sembra di capire che poi il governo voglia vincere facile come recita anche lo slogan di uno spot famoso quindi va a colpire dove si va sul sicuro e dove poi c'è poco da fare perché se uno è proprietario e dicono devi pagare l'1% in più paghi l'1% in più e quindi non c'è neanche un grande sforzo di fantasia nell'andare a ricerca al di là di merendine e bimbi dei cassati come abbiamo sentito in passato che francamente sono improponibili però si va a pestare sempre i soliti ma allora una cosa prima dieci anni fa un partito che allora non aveva il consenso che ha oggi essendo diventato il primo partito d'Italia oggi aveva una parola d'ordine che era federalismo mi riallaccio al discorso che abbiamo fatto prima ne sentiamo ancora parlare dove è finito il federalismo questo grande progetto rivoluzionario che avrebbe dovuto rivoltare l'Italia come un calzino dove è finito ora che quel partito che all'epoca non riscuoteva lo stesso consenso elettorale che riscuote oggi e oggi è maggioritario dove è finito quel processo che viceversa doveva proprio avvicinare i centri di spesa e di controllo alle realtà locali e sottrarle al potere centrale detto questo non voglio eludere la domanda no no ma questo è un buon tema dopo andremo nell'ultimo intervento con il direttore mi domando proprio dieci anni fa non si parlava alto che di questo il federalismo il federalismo io devo dire la verità che negli ultimi anni questa parola è morta non si è mai più sentita nominare dagli stessi protagonisti che hanno beneficiato di un consenso elettorale beati loro sempre crescente per cui oggi sarebbe stato il momento per farlo questo federalismo a parte il fatto che si potrebbe discutere di che cos'è federalismo che cosa voglia dire perché federalismo nella logica non è dividere è unirsi per condividere alcune poche cose non è dividersi però al di là di questo è federalismo fiscale dovrebbe voler dire ma nessuno l'ha mai detto che le tasse vanno a finire nella regione e poi una parte di queste viene girata allo Stato non il contrario questo è il federalismo fiscale se no che federalismo è ma di tutto questo non se ne parla allora facciamo così poi mi risponde dopo per quanto riguarda la tassa sulla casa andiamo subito dal direttore direttore che fine ha fatto il federalismo secondo lei perché la Lega che ha ottenuto consensi come ricordava Siciliotti ma è sotto gli occhi di tutti crescenti nel tempo a un certo punto ha abbandonato questo termine questa strategia questa strada per passare ad altro autonomia o altri tipi di rivendicazioni sì naturalmente questo ragionamento sta in piedi ma io vorrei ricordare a tutti che il federalismo fiscale fu approvato anche in Parlamento con i voti della vecchia alleanza nazionale e anche della Lega evidentemente e di Forza Italia che avevano la maggioranza per cui il federalismo fiscale passò a livello legislativo se non che per farlo passare i signori diciamo della maggioranza che erano di fronte a un Parlamento a maggioranza meridionale perché bisogna dire le cose come stanno per farla passare hanno dovuto abbassare la sticella e quindi dare al Sud e ai rappresentanti del Sud la sensazione che non sarebbe cambiato niente così è stato io queste cose le scrissi a suo tempo e ricordo che Gianfranco Fini mi insultò pubblicamente e mi sfidò e io gli dissi guarda che il federalismo fiscale così come è stato concepito in modo corretto non passerà mai perché c'è l'ostilità del Sud come adesso il Sud manifesta una grande ostilità nei confronti dell'autonomia che poi è la stessa cosa tra autonomia e federalismo fiscale non c'è una grande differenza e noi invece affidiamo sempre l'amministrazione dello Stato alla gente del Sud perché noi qui al Nord abbiamo esigenza di lavorare lavoriamo non è che noi abbiamo l'ambizione di fare i senatori o gli onorevoli abbiamo il nostro lavoro eccetera e affidiamo tutta l'amministrazione ai signori del Sud che invece non avendo un cazzo da fare vanno lì si siedono e poi fanno i loro interessi loro fanno anche bene siccome noi siamo così cretini da consentirgli di fare il cazzo che vogliono è giusto che lo prendiamo in quel posto sarebbe anche giusto poi rimodulare il tutto in modo che alcune aree depresse perché poi è chiaro sono depresse ma non solo perché sono i fanulloni ma perché ci sono anche delle situazioni anche di territorio di opportunità diverse quindi questo però è un discorso che meriterebbe una trasmissione intera per quanto riguarda invece le tasse sulla casa che hanno ipotizzato ma io mi auguro sembra un modo per far cassa e basta sì insomma assolutamente sì qui si sta cercando di tutto per trovare qualcosa che faccia cassa e come dire non accarezzi il pelo del contribuente nel senso contrario quasi impossibile e quindi per quello dicevo prima ho quasi la sensazione che si buttino le notizie lì per vedere che effetto fa e per poi dire sì la faccio o no non la faccio la casa credo che sia un bene che non può essere toccato più il governo Monti ci ha dato una mazzata tremenda da questo punto di vista ragionando esattamente con questa mentalità gli immobili si chiamano immobili perché non che non ci muovono e quindi quelli ci sono quelli io tasso ma oggi francamente io credo che una casa di proprietà costi tra tasse manutenzioni qualsiasi altra cosa collegata assai di più di quanto costerebbe quella medesima casa in affitto non avendola di proprietà e questo è un paradosso che influenzerà anche il mercato immobiliare perché chi vuole che compri una casa oggi con queste regole quindi penso che francamente immaginare di tassarla ancora di più sia assolutamente irrealistico e irrealizzabile allora io vorrei chiudere il collegamento con il direttore chiedendo al direttore Feltri permesso che non abbiamo ancora il saldo definitivo di questa manovra ma secondo lei quando sarà tutto definitivo tutto votato approvato e passerà in Italia in Europa in Giappone in Francia dove volete voi usciremo noi italiani con più o meno soldi nelle tasche sicuramente di meno perché per esempio questa idea di inasprire le tasse sulla casa come diceva giustamente Ceciliotti è una puttanata gigantesca anche perché non si tiene conto che il 50% dei proprietari di casa hanno un mutuo da pagare quindi il mutuo è altro che tassa è una cambiale che ogni mese va onorata e naturalmente gli italiani preferiscono avere la casa di proprietà che non in affitto perché dicono ma se spendo 500 euro di affitto al mese preferisco pagare 500 euro di mutuo questo è giusto è ragionevole ma se poi gli aggiungi altri oneri costringi questi poveretti a vendere questa casa di solito non la vende il proprietario ma la vende la banca che ha un mutuo che non è stato onorato e quindi vende l'immobile all'asta fregando il proprietario originale perché gli porta via l'immobile senza neanche rimborsargli quello che aveva versato attraverso le rate del mutuo non so se mi sono spiegato bene ma è chiaro chi ha comprato una casa sa benissimo che deve pagare il mutuo e se non hai i soldi per pagare il mutuo perché te li porta via lo Stato attraverso una tassazione mostruosa è ovvio che tu quella casa non la puoi più pagare non puoi più pagare il mutuo e così vieni fregato questa è una porcheria questo è un atto delinquenziale questo bisogna dire a questi signori che ci amministrano come se noi fossimo dei deficienti e loro invece fossero dei dittatori la cosa è veramente vergognosa io la ringrazio ci rivedremo tra qualche settimana di nuovo qui con noi per trattare altri argomenti quando ci rivedremo sicuramente la manovra dovrebbe essere cosa fatta dunque avremo ulteriori spunti per parlarne grazie direttore buona serata ci spareremo prima grazie arrivederci metteranno la tassa sulla pistola ci manca solo quello comunque rispondendo alla medesima domanda che ha fatto il direttore usciremo con meno soldi in tasca sì il tema è senza sapere perché cioè senza sapere per quale progetto ci vengono spillati questi soldi sarà un furto con destrezza ma questa è la cosa che veramente è più difficile da digerire perché si può fare un sacrificio si può farlo a beneficio delle giovani generazioni si può farlo a beneficio di un progetto si può farlo a beneficio di tante cose ma farlo senza sapere perché e sapendo che questi soldi finiranno nel mare magno di una spesa pubblica che non si vuole o non si è capaci di ridurre questo francamente sconfottate bene grazie grazie dottor Siciliotti naturalmente la mia è una battuta all'inizio quella di non di volerla rivedere meno di frequente qui invece sarà costretto ad essere con noi spesso spero che le faccia piacere grazie grazie per essere stato con noi grazie a voi per averci seguito torneremo lunedì con una nuova puntata dei nostri speciali subito dopo Udinese Tonight buon proseguimento di serata grazie a tutti